buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video allora oggi vedremo una novità introdotta all'interno dell'applicazione di pokemon go che è stata proprio introdotta qualche ora fa infatti possiamo vedere prima di tutto la notizia riguardante appunto questo aggiornamento su pokemon go hub che potete trovare all'indirizzo pokemon go hub punto net allora la notizia riguarda l'aggiunta dei codici promozionali infatti abbiamo la possibilità nel negozio di poter accedere alla sezione promos o promozioni nella parte in italiano naturalmente appunto non l'aggiornamento che non viene effettuato attraverso un aggiornamento dell'applicazione ma è stato effettuato via server quindi nel momento in cui accederete al gioco troverete direttamente nel negozio la sezione dei codici promozionali come avvenuto per quanto riguardava l'evento di natale o l'evento di capodanno eccetera eccetera appunto dove c'erano caratteristiche particolari nel negozio che appunto sarebbe scomparsi dopo poco tempo ma in questo caso l'applicare alla parte promozioni è lì per restare infatti appunto erano state già incontrate la delle primi dettagli di codice all'interno della della pk della 0.59.1 nel data mining che appunto andavano a vedere come potevano essere ottenuti oggetti anche costumizzazione personalizzazioni per l'avatar caramelle polvere di stelle anche pokemonite infatti con la versione 0.61 sono state anche aggiunte la possibilità che i codici appunto promozionali erano stati già testati e pronti per il rilascio poi i codici possono essere appunto acquisiti tramite il negozio del gioco e ci sono più due o più tipi di codici che possono essere richiesti appunto promozionali eccetera naturalmente al momento infatti andando a leggere quest'altra notizia non ci sono codici nessun pro codice ancora stato trovato nel momento in cui sto girando effettivamente questo video perché il mio anche ne ho provato qualcuno ho provato appunto ad inserire il nome di qualche pokemon oppure per esempio proprio il nome dell'applicazione pokemon pokemon go pokemon go code tantissimi codici ho provato ma nessuno di questi ha funzionato e infatti appunto vi ricordo che il promo i codici promozionali danno come oggetti degli oggetti appunto degli personalizzazioni dell'avatar oppure caramelle poi anche polvere di stelle e pokemonite naturalmente questo infatti ora ve lo faccio vedere attraverso la sezione del gioco infatti se andiamo alla parte inferiore possiamo appunto vedere proprio la sezione promozioni se io infatti vado a scrivere per esempio un codice per esempio pokemon il codice ovviamente vabbè ovviamente sta cercando nello store però questo codice non è valido non è un valido vabbè la traduzione lascio un po' a desiderare però appunto non c'è ancora nessun codice disponibile quindi come ultima cosa vi ricordo ancora che i codici promozionali non saranno rilasciati tramite un aggiornamento software ma li troverete già nella vostra applicazione del nella vostra applicazione naturalmente se è aggiornata all'ultima release ma è stata aggiunta via server quindi la troverete già lì ad aspettarvi al momento non ci sono codici come ultima cosa vi voglio ricordare quindi ci vediamo in un prossimo video un saluto a tutti da gc android ios grazie 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 grazie